Qualche tempo fa un mio cliente di fiducia mi ha affidato un incarico esclusiva di vendita di una dimora importante del valore quasi sotto il milione e mezzo e la sua esigenza era quella di vendere l'immobile per destinare l'incasso all'abitazione dei figli. L'incarico durava circa 12 mesi e dopo mesi di incarico, visite dirette, indirette, una proposta rifiutata sempre tramite un collega, una bravissima collega Replat riesce a portarmi un'offerta sul tavolo a prezzo di incarico e in questo modo abbiamo soddisfatto l'esigenza del cliente. Ma la ciliegina sulla torta è stata che il mio ex cliente che era il venditore si è trasformato in acquirente perché voleva acquistare l'unità per i figli e sempre durante delle visite fatte sempre con degli immobili Replat una collega e io abbiamo individuato il bisogno del cliente per l'unità del figlio e siamo riusciti a trovarlo. Un esempio di totale soddisfazione del cliente perché sono riuscita a potevo rischiare di perderlo dopo la vendita che lui magari poteva andare ad acquistare sul mercato normale, invece la mia forza, questo grazie alla collaborazione Repat, quindi io con uno stesso cliente sono riuscita ad arrivare al doppio risultato sia di vendita che di acquisto. Grazie. 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 Grazie.